Ciao, buonasera, come ti chiami? Buonasera, sono Teresa. Bene, Teresa, ti sei divertita stasera questa presentazione di Organagol? Oggi? Sì, stasera è stato bellissimo, anche perché ho scoperto un caffè del benessere che appunto non conoscevo prima. Bene, questa stasera l'abbiamo invitata a bere un caffè al nostro Coffee Club Jazz. Che gusto l'hai utilizzato? Il mocaccino e il caffè latte. Quale preferisci dei due? Sinceramente il mocaccino, però niente male il caffè latte. Ok, grazie. A chi lo potresti consigliare questa bevanda gourmet? Allora, prima cosa in famiglia, poi agli amici e alle persone più care. Benissimo, hai avuto qualche miglioramento, da quando tempo lo utilizzi innanzitutto? Allora, io che lo utilizzo sono circa un due o tre mesi, mi porta un sacco di benefici, quello che posso dire di più è contro l'insonnia. Prima soffrivo di acidità di stomaco quando bevevo il caffè e con questo appunto lo posso bere quando voglio. Quindi sei pronta a consigliare a chiunque che ti incontri sulla tua strada? Subito, da adesso. Grazie Teresa, buonasera anche a te. Ciao.